Secondo le statistiche di YouTube solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora, grazie! Sono Tommaso Migliet e vengo da Lecce Mi chiamo Sofia Cordare e vengo da Racerino Ci vediamo alla prossima, quando gli astri si fonderanno di nuovo per farci unire Minchia! Ciao belli, grazie per essere venuti Ciao tutti ragazzi, buonanotte Ciao tutti ragazzi Porca puttana Ti voglio bene Ciao tutti ragazzi, buonanotte Ciao belli, grazie per essere venuti in live Minchia! Che timing è? Incredibile Rubino Ancora non vergognarti Vediamo che c'è nelle live Questa foto, vediamo Questa avrà otto anni No vabbè Io Stavo facendo Però Ok Eccolo Ragubin Vabbè entrerà in live Ragubin Vabbè 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 Perché C'era una sonica a cui piacevo Grazie a tantissimo Che arrivano Ma è arrivati a mettere tanti messaggi di vita mia No Ci stavo Oddio No, tui No Non c'è più Non c'è più voglia di giocare Voglio vedere te giocare Voglio vedere che vinci Clip Clip Così detto No Per prima Voglio tutti la clip Vabbè Ma questo è shawl E' finito Ciao Aspetta Ciao Vivo volante Scusate 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 Ditemi tutto Ah si è luminosissimo No Non ti vedi Illuminasi di più Ma è possibile Soprannome Però C'è un però Il mio nick è preso da un personaggio di un libro E questo personaggio Il suo nome Se l'ho tipo dato da sola Per un motivo in realtà diverso dal mio però diciamo che ci sono delle similità tra me e questo personaggio quindi ho trovato questo Nick ormai anni, anni fa e poi l'ho mantenuto anche qua su Twitch però tipo non dare peso a quel problema cioè se tu hai un attacco di panico io non devo trattarti come se realizzo che hai un problema devo trattarti come se non fosse successo niente e quasi cercare di cambiare discorso di farti parlare di altro cioè non devo oddio raga sta male attacco di panico occhio cioè perché sennò tu ti senti più sotto pressione devi cercare di sviarla capito cioè non dargli quasi peso anche se di peso ce ne ha ma vai vero zio la gente gioca ormai a che cazzo è che è uscito l'altro giorno è uscito The Quarry che era che praticamente è tutto animato fai due tre decisioni ma tutto il resto ti guardi dei video allora al posto di andare al cinema ascoltati un audiolibro che è la stessa cosa oh cazzo vabbè ma io guarda che a volte mi metto tipo i documentari poi ecco c'ho le cuffie queste qua stacco il cavo vado in giro per casa pulisco casa ma ascolti ma quant'è che è stato insieme tu e il tuo fidanzato quattro mesi ah è proprio fresca la cosa si ci siamo conosciuti su tinder non ci credi oh veramente oh guarda è due anni che stavo su tinder ne ho trovato uno normale ma avete fatto sesso la prima sera no la seconda si sono andata proprio a dormire da lui dire ma cosa sta guardando ma che timing stiamo facendo oggi ciao ma 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 che cazzo ma che cazzo oggi mi chiamano al casino figa oggi mi chiamano al casino sbanco lo metto di fare le live poi oddio vai una cosa che ti piace raccontare che ti metta a tuo agio è una domanda strana non saprei cosa rispondere sì cioè da persona ansiosa io sto sempre in ansia a qualsiasi cosa sempre qualunque cosa sì anche per dire che cazzo ne so se devo respirare a volte vado in crisi non riesco neanche più a ricordare come si fa ma quindi nel senso in generale un abbraccio cioè da me o da qualunque altra persona in generale ti farebbe piacere ricevere un abbraccio grazie per i beat cazzo tranquilla Alaska c'è il beat treno di masca ok scusami ma sono veramente sensibile a queste cose e senti Alaska prima che inizio a piangere dimmi quattro cose che ti piace fare tantissimo grazie Fofi grazie Zack road to 10 road to 10 grazie Pyrrons quante sub ragazzi state sfruttando bene ho visto un video iniziare così io i Bakugan li rubavo quando ero piccolo sì va bene poi qua ho hell hell quindi il come si dice inferno inferno il paradiso di qua perché quello che ci sta in mezzo è la vabbè è il paradiso eh sì certo belli belli spaccano spaccano molto 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 belli devo dire e senti tu di dove sei? io sono di Brescia sì sì sta chiaramente la visione grazie Beluga grazie Alfredino grazie Raffaele grazie